Da giorni il caseificio era sotto controllo da parte dei poliziotti che avevano notato uno strano continuo accesso di soggetti già note alle forze dell'ordine, ma come assuntori di stupefacenti. Un vero e proprio spaccio non solo di alimentari, ma anche di droga in via Imbriani a Canosa, secondo gli inquirenti che hanno arrestato in flagranza di reato un giovane 27enne pregiudicato, originario di Andrea e titolare del negozio in pieno centro a Canosa. La perquisizione scattata nel fine settimana con unità cinofile ha permesso di rinvenire nel retro bottega 20 dosi di cocaina, oltre a 650 euro in banconote di piccolo taglio assieme ad un registro della contabilità. In casa poi il giovane aveva anche un bilancino di precisione ed altro materiale per il confezionamento. Il 27enne è ora agli arresti domiciliari. Secondo la minuziosa ricostruzione degli agenti di polizia del commissariato di Canosa, il caseificio era dunque diventato un vero e proprio punto di rifornimento non solo per le mozzarella di bufala, anche l'attività commerciale è stata posta sotto sequestro.